Una partita giocata a viso aperto contro una grande squadra vissuta dal campo, che commenti hai su questa partita? Sicuramente da parte nostra sapevamo di incontrare una squadra molto forte come la Roma che fa della qualità e della forza fisica la sua arma migliore. Siamo venuti qua per giocarcela e devo dire che nei 90 minuti abbiamo fatto una buonissima partita. E' chiaro che poi quando ti confronti con queste squadre non puoi sbagliare niente, però alla fine dobbiamo guardare avanti. Ci sono ancora tante partite e da sabato dobbiamo cercare di fare punti. La partita è stata decisa da un gol di Mancini su angolo, un bel gol, ma il Genova secondo te poteva fare qualcosa in più? Potevate fare qualcosa in più soprattutto nel secondo tempo? No, nel secondo tempo abbiamo cercato di alzare un po' il baricentro, di mettere un pochino più di pressione. E' chiaro che quando vieni qua puoi anche soffrire un po' il palleggio della Roma, però ripeto, alla lunga siamo venuti fuori e penso che abbiamo fatto anche una buonissima partita. Peccato per quegli ultimi 25 metri dove se eravamo un pochino più lucidi e precisi potevamo tirar fuori anche il palleggio. A proposito di questo, vi siete scontrati con la Roma che è una squadra molto tecnica, molto veloce, ma avete retto molto bene il campo. Il confronto poi alla fine l'avete retto sia nel primo che nel secondo tempo. Sì, sapevamo che dovevamo fare una grande partita di sacrificio e secondo me l'abbiamo fatta. Ma, ripeto, peccato, siamo un po' amareggiati per aver perso perché comunque potevamo uscire con un risultato diverso da qua. Però dobbiamo guardare avanti, ci sono ancora, ripeto, tante partite e cercheremo prima della sosta di fare più punti possibili per cercare di stare un po' più tranquilli. A proposito del calendario, purtroppo tu sconterai la squalifica, il prossimo turno per il giallo che è in immediato oggi e dalla prossima partita arriva un calendario molto importante per voi, sono tutti scontri diretti per la salvezza, quindi è un periodo dove il Genova deve dare il massimo. Sì, sì, sicuramente lo sappiamo, siamo consapevoli che le squadre che andremo a affrontare sono squadre dove dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Non sarà facile perché sicuramente tutte se la giocheranno col coltello tre denti, però abbiamo il dovere di provarci e cercare di tirarci fuori dalla zona bassa della classifica.